Il fascino onirico profondo di questi luoghi è proprio un po' nella loro irregolarità. Non è come dire l'uomo a dominare la natura, ma è il costruito a seguire le curve di livello originari. Lo Skyline diventa veramente il vero patrimonio, che si fonde col territorio e veramente diventa un unicum, il paesaggio, come cosa da tutelare. Questi luoghi rappresentavano una civiltà che è persa, una civiltà povera, in qualche maniera vissuta con pudore. Sono luoghi nati per le esigenze più essenziali di sussistenza. Sono belli, ma soprattutto sono emozionanti. In qualche maniera questi sono luoghi senza tempo. L'Uberk appartengono a questo patrimonio più povero, una cultura rurale, minore, marginalizzata, che non ha subito nei secoli grosse evoluzioni. Poi nel momento che è arrivata l'evoluzione vera è scomparso, è morto. La vita è scomparso. La vita è scomparso. L'uberk appartengono. L'uberk appartengono. Dio. Grazie a tutti.